Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Io sono Valentina, io sono Sandra, ciao a tutti. Allora, quest'oggi parliamo di un filato che in realtà conoscete già benissimo, che è Leghi, ma è una variante un po' diversa, quindi sicuramente con la stessa identica garanzia di qualità che tutti voi già conoscete. Infatti quest'oggi parliamo di Kikos. Andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro meraviglioso Iggy Ghost, che esattamente come l'Iggy si presenterà in formati da 50 grammi per circa 125 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 2,5-3, oppure dei ferri 3,3,5. Eccolo qui il nostro 100% cotone, ritorto, eccolo qui, potete vedere proprio la sua meravigliosa torsione, morbido, e ciò sicuramente vi consentirà di avere una scorrevolezza durante la lavorazione, ma anche una morbidezza da indossare, e anche molto brillante, grazie proprio a questi stupendi colori che presenta. Allora, è consigliabile, una volta che avrete realizzato la vostra creazione, lavarla ad una temperatura non superiore ai 40 gradi. È possibile stirarlo ad una temperatura fino a 150 gradi. Ovviamente noi consigliamo sempre di apporre un tessuto o qualcosa per evitare magari anche quell'effetto lucido che potrebbe avere il contatto diretto sul cotone. Non è possibile riporlo in asciugatrice, è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo, ma d'altronde con questi colori, insomma, è impossibile anche solo pensarlo. A proposito di colori, vediamo quelli che offre proprio Liggy Ghost. Allora, questo che vedete qui è il Budelli. Eccolo qui, quindi con panna e tutte le varie tonalità del rosa. Poi abbiamo questo, che è Antille, con tutte le tonalità invece del blu e del turchese. Eccolo qui. Poi abbiamo la Ruba, dove ci sono tonalità del rosa ma molto più accese. E questo stacco di bianco che le risalta ancora di più. Eccolo. Voliamo adesso a Bora Bora, con un piccolo contrasto, quindi vedete il giallo, il lilla e il blu. Eccolo qui. Spostiamoci adesso verso toni ben più caldi, che sono questi del California. Eccolo qui. Adesso andiamo invece verso tonalità di pastello, come quelle del Cornovaglia. Eccolo qui. Li potete vedere proprio tutti. Poi proseguiamo invece qui, per queste tonalità che sono quelle del Lombok. Quindi un bel viola e tutte le sue meravigliose sfumature del lilla e del prugna. Ecco qui. Questo invece è il Malibu, quindi toni molto più freschi, contrastati però anche dal nero. Trasferiamoci adesso alla spiaggia di Papacolea. Quindi qui invece vedete tutte le meravigliose tonalità del verde. Eccole qui. E infine concludiamo con tutte le varie tonalità del nero che vanno verso il bianco con Liggy Ghost Vulcano. Un viaggio grazie a Liggy Ghost davvero incredibile. Sfumature davvero meravigliose. Bellissime. Dalla presentazione che avete visto infatti Liggy Ghost si presenta come Liggy in tinta unita nella composizione ma presenta senza dubbio quella caratteristica in più. Perché con sfumature così decise e accattivanti la creazione che andrete a realizzare senza dubbio avrà quel tocco di originalità in più. Certo, saranno molto particolari, insomma davvero molto belle. E poi si tratta di un filato, come ben sappiamo, molto delicato sulla pelle, quindi senza dubbio adatto per bimbi ma anche per adulti. Certo. E perché no anche per fare delle creazioni adatte all'arrivamento o per una copertina appunto. Sì, soprattutto per i bambini anche perché poi è davvero molto morbido. Insomma lo avete visto anche nella presentazione. Quindi insomma avvolgere una creatura in questa morbidezza è sicuramente uno dei regali migliori quasi che si possa fare. E poi da notare i nomi che sono stati associati ai vari nomi. Esatto, molto particolari. Sì, ci fanno viaggiare con la mente. Vero, assolutamente sì. Infatti diciamo che poi indossare una creazione realizzata con Liggy Coast in un certo senso ci farà o rivivere magari i viaggi che abbiamo già fatto in passato o comunque sognare qualcuno che vorremmo fare in futuro. Quindi senz'altro un'idea originale che solo Tessiland d'altronde poteva avere. Ok, allora ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella così sarete aggiornati sempre su tutte le novità Tessiland. Esatto, e noi quindi vi diamo appuntamento al prossimo articolo. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.